Sono 61.000 le dosi di vaccino anti-influenzale distribuite nell'area vasta 1 ai medici di medicina generale del territorio per la campagna vaccinale anti-influenzale 2018 per le casegarie a rischio e le fasce deboli della popolazione. Storicamente l'influenza non ha fatto ancora la sua comparsa, da noi in questo periodo sono tutte forme para-influenzali che affliggono molti di noi con queste escursioni termiche che stressano naturalmente il nostro organismo. Il picco influenzale è previsto come da statistiche nell'Italia centrale per dicembre e considerando i 15 giorni necessari al siero per attivare la reazione immunitaria del nostro organismo questo è il periodo giusto per effettuare la vaccinazione. Sono già state distribuite ai medici di medicina generale perché si è visto negli anni che questa integrazione, questa sinergia con i medici di medicina generale facilita ai cittadini la possibilità di poter usufruire della vaccinazione. Quindi di fatto già questa distribuzione è iniziata. Abbiamo anche noi delle vaccinazioni, dei vaccini a disposizione che teniamo soprattutto per alcuni soggetti a rischio, in particolare per i bambini. È iniziata la vaccinazione anche agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri con i quali abbiamo anche instaurato una serie di incontri e di corsi al fine di migliorare quella che è la conoscenza in merito alle vaccinazioni come strumento di prevenzione. Quest'anno i ceppi presi in considerazione sono quattro, compreso il famigerato Michigan che lo scorso anno mise a letto milioni di italiani. Quindi di fatto è chiaro che il problema di fare la vaccinazione di tutti gli anni è proprio questo, il virus dell'influenza, tende a cambiare. Nel mondo si mette in osservazione durante l'anno quali sono i ceppi principali che girano ed in base a questi principali ceppi che vengono isolati si poi produce il vaccino. La sfatare anche in tema di vaccini la credenza che quello a pagamento è migliore o più potente. Nulla di più falso, l'importante è vaccinarsi. Di fatto non è che il vaccino perché viene offerto gratuitamente, anzi questo è giustamente un intervento che fa la sanità perché oltretutto il doversi ammalare ha dei costi notevolmente superiori per la sanità piuttosto che fare un vaccino. Le immagini quanto costa, anche in termini di salute, il fatto di dover prendersi una broncopolmonite o un otito o qualche complicanza legata all'influenza sicuramente ha dei costi molto più elevati di qualsiasi vaccino.